Siamo a Venezia in Piazza San Marco. Quest'anno l'Assemblea degli Iscritti si terrà alle Procuratie Vecchie nell'Auditorium nel pomeriggio del 16 dicembre alle ore 5. Cari colleghi, saremo nell'ultimo piano delle Procuratie dove c'è il filare di Oculi, recentemente restaurate. Proprio lì andremo a fare l'Assemblea. Adesso entriamo nei locali delle Procuratie restaurate che sarà possibile visitare anche il giorno 16 dicembre prima dell'Assemblea con una visita guidata organizzata dal Collegio Ingegneri di Venezia. Siamo all'interno delle Procuratie. Lì in fondo c'è l'Auditorium dove andremo. E da qui comincia la visita guidata alle Procuratie Vecchie. Chi vuole può prenotare con il Collegio la visita all'interno di questa mostra interattiva per verificare le proprie potenzialità e i propri punti di forza. Sarà un'esperienza meravigliosa. Questo è l'Auditorium nel quale si svolgerà l'Assemblea il 16 dicembre. Vi aspettiamo. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.